la principessa astrid del belgio si è fratturata diverse vertebre durante l'esercizio ha annunciato il palazzo il palazzo reale belga ha annunciato venerdì che la reale si è ferita ma non ha dovuto essere ricoverata in ospedale la principessa si riprenderà a casa e attualmente sta riposando durante un comunicato il palazzo ha affermato che l'infortunio è avvenuto durante un'attività sportiva nella sfera privata a seguito del sorprendente infortunio la reale ha sospeso tutti i suoi doveri fino al completamento della sua guarigione astrid aveva un viaggio programmato negli stati uniti all'inizio di ottobre poiché anche il re è stato recentemente costretto a cancellare tutti gli eventi imminenti ma potrebbe essere necessario rimandare la principessa avrebbe dovuto viaggiare negli stati uniti dal 2 al 9 ottobre durante la visita astrid ha programmato di visitare new york boston e atlanta la visita è stata incentrata sull'evidenziazione delle tecnologie mediche e farmaceutiche dell'intelligenza artificiale del settore agroalimentare e delle soluzioni ai cambiamenti climatici ciò avviene quando il re filippo e la regina matilde del belgio sono stati costretti a cancellare i loro imminenti impegni poiché qualcuno della famiglia è risultato positivo al covid i reali hanno limitato i contatti con le persone dopo che un membro della famiglia reale ha contratto il virus il re e la regina sono risultati negativi ma rimarranno in isolamento ha annunciato il palazzo la scorsa settimana punto non è noto quale membro della famiglia sia risultato positivo anche se i funzionari reali hanno affermato che si trattava di un membro più giovane un membro più giovane della famiglia reale belga ha annunciato alla fine di agosto che quest'autunno frequenterà un'università britannica la principessa elisabetta 19 anni ha rivelato che inizierà i suoi studi all'università di oxford a ottobre prossima in linea di successione al trono belga la principessa ha annunciato che studierà storia e politica